No, Alissa, Alissa, torna qui subito, via, 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 vieni con lui, la uscita, non invadere la corsia di sgrastinato, non stai andando, se vado a quella esterna, non stai andando, oddio, stai andando, poverino, al tempo aveva 20 secondi dagli altri, dai Massimo, 20 secondi, è una cosa che non l'ha mai fatto in vita sua, no, no, è un passato, 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 è inevitabile, poi Massimo è in esterna, è più strada da fare adesso, Massimo è in esterna, quindi è più strada da fare degli altri. Er führte, Nr. 51, Kyto Saagmann, licht gefolgt, fran外, nr. 70, Andrei Cobani. Und gefolgt, fran外, nr. 47, Franz Maier. Grazie a tutti